balle schiacciate no e noi ce ne avevi molto alte per la fifa si sono ritirati dentro ha detto mi schiacciano e sono saltate dentro e ma va dove cazzo stai andando via fammi tirar via la mia prima che ci fermiamo su a mangiare la banana forza io non l'ho portata